Yeee! Bentornati lettori! Oggi torniamo a parlare di libri come tutti i giovedì, in questo caso parliamo della mia TBR del mese di settembre, ovvero tutti quei libri che ottimisticamente mi prefiggo di leggere in questo mese. Andiamo con ordine, io e il mio finicottero, andiamo con ordine e cominciamo con quelli che ho in lettura. Ora, il mese è già iniziato e io sto leggendo due libri che mi sono stati consigliati da uno di voi, anzi da una di voi, sotto un video delle letture. Sto parlando di Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, che è una scrittrice degli Stati Uniti degli anni 50, di cui io non avevo mai sentito parlare, ammetto la mia ignoranza, mi è stata consigliata in toto, ma in particolare racconti, lettere e saggi, ho iniziato con le lettere e i racconti alternandoli. Ho quindi cominciato questo volume, Bonpiani, tutti i racconti, Flannery O'Connor appunto, che è una raccolta unica, in un unico volume, di tutti i racconti scritti dall'autrice, che sono 31, e sto alternando la lettura con l'epistolario della stessa Flannery O'Connor, che si chiama Sola a presidiare la fortezza, in questa bellissima edizione Minimum, un fax col pavone, che era un grande amore dell'autrice. Bellissimo. Mi sta già, di anticipo, che è un'autrice che mi sta già piacendo molto, e quindi promette bene. Poi, agosto è stato il mese del mio compleanno, e vedrete settimana prossima, penso, il video con i regali di compleanno. Ve ne anticipo già due, perché qualcuno ha pensato anche ai libri. In particolare, mio fratello sapeva che da un po' volevo leggere la Tetralogia dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, quindi mi ha regalato i primi due volumi, e sarei molto curiosa di iniziare la lettura dal primo volume, ovviamente, e in questo caso non so quasi niente della trama, se non che appunto si racconta la vicenda di un'amicizia femminile, quella tra Lila Cerullo ed Elena Greco, dall'infanzia Napoli, negli anni 50 del secolo scorso fino ad oggi. Questo è il primo capitolo, che è quello in cui si parla dell'infanzia. Staremo a vedere, so che HBO ha acquistato i diritti e ne farà una serie tv, e quindi volevo leggerlo. E altro libro regalatomi per il compleanno, in questo caso da Letizia, che ringrazio. Letizia ha un'autrice che ama molto, che è Rainbow Rowell, io di Rainbow Rowell avevo tutto in wishlist, ho letto soltanto Kindred Spirits, che è il breve racconto che ha scritto in gennaio per la giornata internazionale del libro, e mi ha regalato Carry On, che è l'ultimo romanzo di Rainbow Rowell, ma quello che Letizia, nel suo spot-on, che se non l'avete visto ve lo pubblico qua sotto, ha fatto uno spot-on su Rainbow Rowell, dove parla di tutte le opere dell'autrice, consigliamo di leggere prima questo e poi Fangirl, io li avevo tutti in wishlist e quindi mi ha regalato il primo. Anche di questo non so quasi nulla, se non che questa è la storia di cui la protagonista di Fangirl scrive fanfiction, quindi questa è la storia originale, e non ne so nient'altro. So che il protagonista è Simon Snow, e vedremo. Molto curiosa. Veniamo poi a un libro che ho in libreria da molto tempo, ma che ultimamente stuzzica la mia curiosità, e che è questo, Philip Roth, Addio Columbus, sono racconti. Questa edizione è bellissima, tra l'altro è un regalo di mio zio di qualche anno fa, un'edizione del Bonpiani 1980, è addirittura più vecchia di me, e siccome mio fratello ama molto quest'autore, io non ne ho mai letto nulla, altra shame on me, ho pensato che visto che questa era in libreria, potesse essere un buon modo per approcciarmi all'autore. Veniamo poi a tre libri che mi sono stati inviati e che sono curiosissima di leggere, il primo è Amore, Sesso e altre questioni di politica estera, di Jesse Armstrong, me l'ha inviato Fazio Editore, l'ho richiesto perché nel comunicato stampa di presentazione dicevano che lo stile era molto simile a quello di Nick Hornby, che sapete essere uno dei miei scrittori preferiti, e quindi non ci ho pensato molto a richiederlo, è ambientato a Sarajevo nel 1994, e l'autore è un commediografo inglese, alla sua prima prova con il romanzo. Sono veramente molto curiosa di leggere questo libro, molto molto curiosa. Vedremo. E poi Maura Gancitano, che ha aperto una casa editrice nel 2016, se non sbaglio, mi ha inviato vari titoli, ma in particolare questo mese mi piacerebbe leggere due di quelli che mi ha inviato. Il primo è Madda sulla Luna, di Andrea Colamedici, racconto illustrato per bambini e adulti impertinenti, che è una storia illustrata, appunto, dove questa bambina, Madda, ci dà la visione del mondo attraverso gli occhi dei bambini. Molto curiosa. Questo mi piace molto. E poi invece sono estremamente curiosa di leggere questo saggio, che si chiama Malefica, trasformare la rabbia femminile, che è un saggio proprio scritto da Maura, e va a analizzare, a partire dal personaggio di Malefica, che è la strega della fiaba, la bella addormentata nel bosco, la figura della donna, il dolore, la rabbia, il dominio della società patriarcale, la sconfitta del femminismo sacro, e si dice che la cattivaria e la crudeltà della strega rappresentano una reazione a qualcosa che abbiamo rimosso, il tradimento dell'animus nei confronti dell'anima, della nostra parte materiale nei confronti della parte spirituale. È un volumetto che si preannuncia davvero interessante, spero di riuscire a letterlo. Ora, vi confesso, avrei voluto inserire un altro libro in questa ottimistica e ipotetica TBR, che è Scarlet, il secondo capitolo delle Lunar Chronicles di Marissa Mayer. Ho avuto un piccolo problema, non lo trovo più, ma se ci seguiamo su Snapchat, sai che il piccolo uno che gira per casa mia ha una passione per lo spostare i libri della libreria da uno scaffale all'altro. Secondo me Scarlet, dallo scaffale dei libri da leggere, è finito in qualche altro scaffale, quindi lo dovrò cercare. Però siccome mi serve anche come challenge per la Reading Challenge, vorrei leggerlo, se lo ritrovo, quindi diciamo che ti aggiornerò. Se nel video delle letture del mese di settembre vedrai Scarlet, significa che sono riuscita a ritrovarlo. Molto bene, questa era la mia ottimistica e ipotetica lista dei libri che ho intenzione di leggere in settembre. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli, cosa ne pensate, quale assolutamente non mi devo lasciare sfuggire, quindi quelli da cominciare subito, se c'è qualcosa che vi incuriosisce in maniera particolare, fatemi sapere anche che cosa leggerete voi nel prossimo mese, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, sempre qui il giovedì, per i video a tema libri. Ciao!